Da 48 ore non si rilevano nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Molise. Una buona notizia che va associata al numero inferiore però di tamponi processati, soltanto 77 nelle ultime 24 ore. Situazione uguale in Italia dove i casi sono stati 347, dunque meno dei 552 registrati l'altro ieri, ma non un numero di test decisamente superiore. L'indicazione che arriva dal bollettino ASREM è comunque positiva perché si evince che gli ultimi focolai registrati, Campobasso, Pesche, Isernia e tra i migranti, sono fermi. Ne ci sono stati nuovi casi legati ai contagi di Ururi, un carabiniere risultato positivo qualche giorno fa, e Boiano, un militare rientrato dal Kosovo. Restano quindi 35 i positivi nella nostra regione, 27 in provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia. Dei 35 e 34 sono isolati nelle proprie abitazioni, mentre uno è ricoverato al Cardarelli.